Oggi vi presento l'albo illustrato Momo in terra straniera di Christine Wendt, edito da Jackabook. A nord del nord, proprio vicino al polo, vive Momo, un piccolo orso bianco. Il suo paese è grande, coperto di ghiaccio, piatto e tutto uguale. Momo non conosce altro e gli sembra di vivere nel posto più bello del mondo. Un amico partito per terre lontane un giorno manda una lettera piena di meraviglie. Racconta infatti di montagne, di fiumi, di alberi, di fiori e di miele, bacche, more, persino di pesci che saltano. Ma gli orsi bianchi non sanno niente di tutte queste cose e Momo non riesce proprio a immaginarselo. Spinta dalla curiosità, la famiglia di Momo decide di partire per andare a vivere in quel bel paese e salutati gli amici si imbarca su una nave verso sud. Cosa succederà alla famiglia di Momo? Per scoprirlo dovete leggere Momo in terra straniera di Christine Wendt della collana Le avventure di Momo l'orsetto bianco, edito da Jackabook.